un altro giovane che fa parte del gruppo del termo di calcio 1920 allora presentati e il ruolo età come ti chiami da tutti vengo da napoli sono mauro giovanni sono una mezzala centrocampista sono molto contento di essere qui io ho visto te che se tecnicamente se davvero davvero importante devo dire quindi ci dovremmo aspettare sicuramente grandi cose da te perché ti ho visto un qualche spezzone di partita domenica sabato scorso anche nell'allenamento vedo che con la palla tra i piedi sai il fatto tuo risulta vero questo speriamo sempre di migliorare il mister ci dà sempre una grande mano quello che vuole mister noi siamo qua per fare bene perché siamo un gruppo giovane e ci aspettiamo ci abbiamo fiducia compagni e compagni molta fiducia tra di noi siamo siamo convinti di poter far bene bisogna dire che da una settimana che state allenando se avete già comunque fatto un bel gruppo vedo che insomma alla fine mi divertite fate proprio quello che deve fare una vera un vero gruppo abbiamo come come siamo tutti dei ragazzi solari viviamo tutti i giorni insieme e siamo una grande squadra questa piazza di termoli la conoscevi già l'avevi sentito parlare o non aveva sentito parlare molto bene ne ho avuto una conferma standoci qui domani giorni inizia la stagione ufficiale siete già belli cariche vedo che siete davvero importante la cosa si si è la cosa più importante fare bene all'inizio e poi tutto il resto viene da se noi ti aspettiamo sul campo grazie giovanni in bocca al lupo